Per tutti e sete l'accusa formulata dal PM Marco Dioni resta quella di maltrattamenti. Adesso le indagini sono chiuse e si potrebbe andare in tempi record verso un processo. Nel registro degli indagati sono finiti sette operatori sociosanitari della RSA di strada in Casentino, immortalati dalle telecamere nascoste e installate dai carabinieri, mentre maltrattavano ed insultavano gli anziani ospiti della struttura non autosufficienti. Il provvedimento è stato notificato lo scorso martedì mattina. Adesso gli indagati tramite i loro legali potranno chiedere entro 20 giorni di essere interrogati o presentare le proprie memorie. Alcuni di loro avevano già risposto al GIP Gian Piero Borraccia nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dichiarandosi pentiti ma lamentando condizioni di lavoro stressanti. Siamo stressati, siamo molto provati e niente giustifica questo che abbiamo fatto. Comunque chiediamo scusa a tutti, alle famiglie e principalmente agli anziani. Sarà poi fissata l'udienza preliminare con la quale il gruppo dovrà decidere se rinviare a giudizio o accogliere eventuali richieste di patteggiamento o riti abbreviati degli imputati. Non ci sono invece altri indagati, non è stata dunque riscontrata nessuna condotta omissiva da parte di chi avrebbe dovuto vigilare. Le indagini dei carabinieri partirono dopo la segnalazione di una collega degli indagati e di una parente di un ospite. Quattro mesi di indagini con sopralluoghi in borghese, telecamere nascoste ed infine anche l'intervento dei NAS. Le telecamere avevano così immortalato immagini sciocca, schiaffi, insulti e maltrattamenti di ogni genere, video drammatici che avevano ovviamente scosso l'opinione pubblica a retina e non solo.